amici benvenuti sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive oggi abbiamo una macchina che di sportivo c'è ben poco perché questa come dico io è una monster car come ogni tanto definiamo questo genere di vetture sono ben lontane dalle macchine sportive con le quali noi siamo abituati a lavorare comunque per noi ogni macchina va bene non è che facciamo solo esclusivamente una tipologia di macchine le altre assolutamente no ecco in questo caso la tipologia di lavori o la commessa che ci è stata affidata per questa macchina è un ripristino di alcune parti che sostanzialmente vengono trascurate in maniera particolare appunto il discorso motore il discorso e il discorso cambio automatico questa macchina un cambio automatico tre marce figuriamoci di derivazione americana coppia molto consistente in un basso numero di giri è un cambio di vecchia generazione però come tutti i cambi automatici come abbiamo spesso descritto più volte una corretta manutenzione del cambio automatico con un servizio di manutenzione come si suol dire cambio automatico quindi cambio dell'olio pulizia di tutta la parte interna olio nuovo e cambio del filtro del cambio automatico allunga sicuramente la vita di questo componente oltretutto questo cambio se mai dovesse rompersi il fatto di recuperare dei ricambi essendo una diciamo un componente americano non sarebbe poi così semplice quindi al di là del costo il fatto di arrivare a 90.000 km 95.000 km come a questa macchina e fare un servizio di modizzazione cambio automatico sicuramente mette il cliente in condizioni di non pensare a problematiche quantomeno su questo componente che è veramente molto costoso quindi qui abbiamo messo a posto il cambio abbiamo fatto conseguentemente di solito lo proponiamo sempre anche in abbinamento la pulizia interna del motore con idrogeno quindi il fatto di spiego velocemente è una soluzione che da un circa un paio d'anni abbiamo introdotto nella nostra gamma di servizi c'è un sistema appunto gestito elettronicamente con una diciamo un inserimento dell'idrogeno nel condotto di aspirazione quindi l'idrogeno viene aspirato con la macchina in moto ovviamente c'è un timing preciso per ogni singola macchina in questo caso essendo un motore di grossa cubatura il tempo va dal posto che un'ora è stato spostato a un'ora e mezza la macchina deve rimanere in moto al minimo un'ora e mezza nel contempo aspira in maniera costante e con una quantità di idrogeno ben definita questo questo sistema va a sciogliere tutte le morchie tutte le incrostazioni che ci sono nel motore nella parte superiore del motore ovviamente la coppa dell'olio questa parte qua no per cui tutto quello che è la camera di combustione tutto quello nel caso non è il caso di questo perché hanno aspirato la parte della turbina tutto lo scarico il catalizzatore nel caso in cui la macchina fosse un turbodiesel il FAP quindi abbiamo fatto una prova recentemente con la sonda ottica abbiamo dato un'occhiata a come si modifica l'interno di una camera di combustione prima e dopo e ad esempio abbiamo visto che i pistoni tornano praticamente il cielo del pistone che solitamente dopo un certo numero di chilometri soprattutto sui diesel diventa nero scuro cioè ha su qualche incrostazione dopo il ciclo di pulizia con idrogeno diventa lucido come se il pistone fosse nuovo tanto per intenderci tutta la parte delle gr cioè è un sistema che va a un po' come descrivo io ai miei clienti come se uno facesse un po' se andasse a togliere un po' di una cura disintossicante per togliersi un po' di colesterolo cioè va a pulire quelle che sono diciamo i vasi sanguigni in questo caso pulisce perfettamente tutta la parte interna ripeto è un sistema che non ha un costo eccessivo ma che soprattutto cioè la resa migliore tanti più chilometri alla macchina tanto più questa resa ha diciamo dei risultati dei benefici perché se chiaramente se uno va a fare questo genere di lavoro su una macchina con 10 15 mila chilometri la macchina sostanzialmente nuova poche incrostazioni non ha quasi senso su macchine che hanno dai dagli 80 100 200 mila chilometri in su più chilometri ci sono più incrostazioni alla macchina e più nel corso del tempo in maniera micrometrica il cliente non se ne accorge il fatto di avere una macchina con molto chilometrata alla fine perde anche in prestazioni tant'è vero che anche lì abbiamo fatto un paio di volte delle prove su macchine molto chilometrate con il Dynorod abbiamo fatto per curiosità abbiamo visto quanti chilometri e che coppie aveva la macchina prima abbiamo fatto la pulizia con abbiamo fatto la stessa prova successivamente e in alcuni in alcuni casi abbiamo guadagnato anche 4 5 6 cavalli che erano cavalli cioè non sono stati guadagnati in più sono stati recuperati per via del fatto che queste incrostazioni comunque deprimivano le prestazioni quindi direi che è un ottimo servizio non ha nessun tipo di controindicazione noi lo consigliamo veramente a tutte le macchine che hanno appunto come dicevo un certo chilometraggio ultima cosa che ci ha chiesto il cliente il discorso ammortizzatori erano ammortizzatori ormai vista la massa della vettura visto il carico è una macchina che pesa quasi tre tonnellate due tonnellate otto più o meno fra l'altro monta degli ammortizzatori di non particolare qualità diciamo come tutte le macchine americane le parti nascoste lasciano un po' a desiderare è una macchina che rollava cioè rolla già molto perché è un baricentro alto quando la macchina è nuova figuriamoci con un ammortizzatore scarico ancora peggio anche se questa ha la fortuna di avere una gommatura non eccessiva noi abbiamo visto delle amber che hanno delle gomme con appunto il passaruota maggiorati con una gommatura che è molto superiore a questa quindi chiaramente si peggiorerebbe la situazione detto questo nel caso degli ammortizzatori non avendone trovati di ricambio abbiamo seguito la procedura di utilizzare lo stesso ammortizzatore e di ricondizionarlo riportandolo a nuovo cioè di revisionare l'ammortizzatore originale quindi per fortuna e non è diciamo fattibile questo lavoro su tutti gli ammortizzatori perché dipende dal tipo di ammortizzatore se è smontabile o meno perché sono gli ammortizzatori molto molto economici che sono completamente saldati in questo caso si buttano e conviene prendere i nuovi in questo caso per fortuna la testa diciamo dove dove scorre il pistone era smontabile quindi smontando quello si rifà tutta la parte interna quindi guarnizioni e passaggi dell'olio e tutto quello che la componentistica interna dell'ammortizzatore si può anche fare una taratura in questo caso diversa montando magari caricando un olio leggermente più denso si ha una come dire un diverso comportamento dalla macchina adesso la macchina è ritornata come se avesse gli ammortizzatori nuovi anzi ancora meglio perché abbiamo fatto una taratura leggermente più più rigida in maniera tale da limitare un po' questo rollio che appunto è dato dalla dimensione dalla massa della macchina altre cose per il momento non ce ne sono avremmo dovuto fare anche un discorso di motore con montando il pedal booster purtroppo abbiamo trovato un'incompatibilità cioè abbiamo il pedal booster per questa macchina però probabilmente in produzione o non ci risulta il connettore risulta diverso da quello che abbiamo previsto per cui purtroppo questo tipo di componente non lo possiamo montare vedremo se riusciremo a trovare magari successivamente un pedal boost con il connettore giusto per il momento questa parte la lasciamo in sospesa io direi che anche per questa puntata è tutto vi invitiamo a consultare il sito www.9milagiri.it all'interno del quale troverete sempre l'archivio elaborazioni ci sono più di 3500 vetture elaborate nel corso di questi ultimi dieci anni perché il sito abbiamo iniziato a collettare le schede vettura dal 2011 quindi da poco più di dieci anni ci sono queste schede vettura abbiamo fatto un calcolo giusto per abbiamo fatto un calcolo e noi essendo 35 anni che facciamo questo lavoro più o meno più o meno abbiamo fatto un calcolo che abbiamo elaborato più di 10.000 vetture nel corso di questi anni detto questo quando avete bisogno di qualunque informazione consiglio qualunque richiesta non è detto che dovete per forza chiamarci per acquistare qualche cosa anche un semplice consiglio uno semplice scambio di opinioni mi potete trovare in sede allo 027383175 vi invitiamo a cliccare sulla campanella e soprattutto iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima grazie